Immediatamente dando la parola al Ministro Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ha sentito, Ministro, ci sono temi che riguardano l'infrastruttura, uno dei grandi temi. Ovviamente ci sono le altre, che sono i comportamenti, la parte tecnologica, capire meglio che cosa guidiamo quando guidiamo o anche intuire quando non siamo guidatori, perché abbiamo visto qual è la prospettiva di avere delle città, soprattutto delle città nelle quali questa ibridazione della mobilità comporterà un numero di vittime, diciamo di fattori deboli che possono aumentare. Io le chiedo che cosa avete in mente per questo, perché l'obiettivo ce lo poniamo anche da padri di famiglia. Innanzitutto grazie per l'occasione, grazie ad Ecra e grazie a chiunque sia presente questa mattina. Mi sto, in questi 51 giorni di esperienza governativa, mi sto facendo esperto di codici. Ce n'è uno su cui stiamo lavorando all'acremente, soprattutto gli uffici del MIT e di Chigi, che ringrazio, che è il codice degli appalti, che dovrà essere portato in Consiglio dei Ministri nei prossimi giorni, quindi sicuramente prima del Natale, riguarda tutto il sistema degli appalti pubblici e quindi è impegnativo e stimolante e sfidante come impresa. L'indicazione politica è stata quella, e ringrazio il Consiglio di Stato, a partire dal Presidente Frattini, per l'enorme lavoro che hanno fatto, quello di sfoltire, snellire, velocizzare, ammodernare, senza ovviamente limitare il processo partecipativo e la trasparenza, però deve essere un codice a disposizione dei comuni e delle imprese, deve essere un codice che permette di costruire, di appaltare e di rinnovare, non che blocca e che rallenta. E poi ci stiamo dedicando anche un altro codice, la cui ultima versione integrale è di 30 anni fa sostanzialmente, con degli aggiornamenti di anno in anno. Io nel fine settimana stavo messaggiando con due colleghi, in particolar modo, quello agli interni e quello alla scuola, perché un tavolo sul codice della strada mi piacerebbe convocarlo già prima della fine di quest'anno. Stiamo cercando, nonostante abbiamo la manovra di bilancio a breve in aula, il decreto aiuti a breve in aula e numerosi decreti in scadenza, se riusciamo già settimana prossima, perché chi ha tempo non aspetti tempo, un tavolo per l'aggiornamento del codice che abbia gli enti locali, quindi i rappresentanti dei comuni e delle polizie locali, quindi i lanci, e poi i due ministeri, oltre a quello dei trasporti nodali. Quello agli interni, penso alla polizia stradale dal punto di vista della prevenzione e della repressione, però anche quello della scuola. I dati che ascoltavo mi dicono che è fondamentale portare l'educazione stradale sui banchi, quantomeno delle scuole superiori, come informazione. Dal mio punto di vista, questo è un mio parere personale che porterò al tavolo, però intervenendo anche sulle sanzioni, non tanto sulle sanzioni economiche o sulle sanzioni penali, perché puoi portare a mille milioni la multa, non cambia nulla. Le sanzioni in termini temporali. Io so che diverse associazioni, ad esempio, che radunano parenti di vittime della strada, parlano e chiedono anche la revoca a vita nei casi più gravi della patente. Io penso che se qualcuno si mette alla guida ubriaco marcio o drogato deve sapere che è un potenziale assassino, perché ha in mano un mezzo che potenzialmente causa morte e quindi la sospensione fino a due anni, la revoca, lo stop triennale. Io leggevo i dati di alcune province, ricordo ad esempio la città metropolitana di Bologna nei primi mesi di questo 2022 post-Covid, dove sono aumentate drammaticamente le patenti sospese o ritirate per guida, non solo in stato di ebbrezza, ma sotto effetto di cocaina. E la cosa incredibile non solo da parte di giovanissimi, anzi, con un'età media piuttosto elevata, quindi con l'educazione stradale tu puoi intervenire sui 14 anni e i 16 anni. Ma quando prendi un 50enne, un 60enne drogato, ubriaco, la guida, lì evidentemente la scuola ha fallito qualche anno prima la sua missione, lì devi intervenire drasticamente. Poi ne parleremo in questo tavolo sull'aggiornamento del codice con gli altri, però nei casi più gravi io penso che la revoca a vita della possibilità di guidare e conseguenzialmente, visto la situazione di uccidere, possa e debba essere considerata. Molto stimolante è l'ipotesi della patente graduale, del conseguimento graduale, aggiornato, accompagnato e informato. Quindi questo è uno dei temi su cui sicuramente lavorare. C'è anche, così come a bordo delle autovetture devi avere obbligatoriamente alcuni strumenti di sicurezza, il giubbino, ci sono anche gli etilometri monouso, che costano pochi euro, che dal mio punto di vista dovrebbero essere obbligatoriamente previsti a bordo, in modo tale che dopo pranzo o dopo cena chiunque possa auto-esaminarsi e auto-limitarsi, ovviamente poi ne va della coscienza civica del singolo, però sapere che sei allo 0,2 o sei allo 0,8 magari ti porta a riconsiderare il fatto che è meglio chiamare un taxi, è meglio chiamare il papà o l'amico. Sono due dei tanti spunti che ci sono. L'uso del telefonino, anche qua c'è un mondo che va a due velocità, pare che venga reso possibile il connettersi al mondo in aereo e io a questo inorridisco perché è uno dei pochi momenti in cui stacchi e non puoi essere raggiunto e puoi stare tranquillo, puoi leggere, puoi studiare, puoi aggiornarti, ecco se ti arriva il 5G anche in aereo tra Fiumicino e Linate è un problema dal mio punto di vista, scherzo, ma fino a un certo punto, ecco l'utilizzo di questi strumenti tecnologici alla guida non è un problema solo di sanzione, perché tutti sanno che non si guida ubriachi, che non si mandano messaggini al telefonino, però moltissimi lo fanno. Basta guardare chi è in pausa al semaforo a Roma piuttosto che a Milano. Quindi operare sulla prevenzione, coinvolgendo il Ministero della Scuola, sì. Operare sul controllo. Fortunatamente leggevo e mi viene confermato il fatto che gli incidenti autostradali sono in diminuzione e sono molto più a rischio le strade extraurbane, quindi anche qua non è pensabile avere una pattuglia della stradale lungo ogni provinciale e lungo ogni statale. Però, ripeto, incidere non tanto sulle sanzioni economiche o penali, che non dissuadono più di tanto, ma quanto sullo stop, ha la possibilità di guidare, io penso che potrebbe indurre a qualche riflessione. Altro paio di maniche sono gli strumenti della mobilità, che evidentemente il codice della strada del 1992 non poteva ipotizzare. Gli aggiornamenti ci sono stati, però penso alle due ruote, penso ai drammi in bicicletta, la morte di Rebellin, ma anche dello studente di Milano e le morti ormai quotidiane, ci impongono un ragionamento e una riflessione. È chiaro che il metro e mezzo di distanza per superare è cosa buona e giusta in linea di principio, diverse sedi stradali non prevedono la possibilità di avere questa distanza e poi si apre giuridicamente il dibattito chi misura cosa e come riesci a modularlo. Altro paio di maniche è rendere identificati anche, non penso tanto ai ciclisti, ma penso al monopattino, che nella sua versione elettrica raggiunge velocità su strada e su marciapiede, ahimè, e basta vederlo quotidianamente, però questa è una richiesta della Polizia Stradale che mi sento assolutamente di condividere, rendere più sicuro anche la guida sulle due ruote e il monopattino elettrico, casco, targa, chiamiamola come vogliamo, perché non ci può essere impunità. È giusto sanzionare gli automobilisti irresponsabili e le cronache di questo fine settimana. È chiaro che non sali su una macchina in sette, su questo puoi fare l'educazione stradale che vuoi, puoi mettere la prevenzione che vuoi, però questo mi sembra oggettivo. Qualcuno però si ritiene impunito, ecco, per mettere l'identificazione anche per chi utilizza a sproposito alcuni mezzi che sono pericolosi sia per chi guida, sia per chi è a piedi. L'anno scorso andai in un ospedale milanese per problemi di carattere personale e arrivai una domenica mattina e parlai col primario del pronto soccorso che mi diceva, senatore, qua il problema dell'alcol non è solo sulle auto. Qua se si guida ubriaco o drogato il monopattino, io sono pieno di ragazzi sfasciati, fratturati, che rischiano la morte, anche perché poi ci sono sedi stradali sconnesse, questo riguarda la manutenzione del manto stradale, ci sono le rotaie. Quindi avere anche maggior consapevolezza per quello che riguarda i nuovi strumenti di mobilità penso che sia fondamentale. Io mi sono guardato i dati più aggiornati che sono, ahimè, di qualche anno fa e quindi bisognerà intervenire sui punti patente in Italia. Diciamo che stando alle statistiche, gli italiani sono, almeno erano, stando agli ultimi dati disponibili, molto corretti alla guida perché vado a memoria, il 98% degli automobilisti ha più di 20 punti sulla patente e fra gli 0 e i 9 punti c'è solo lo 0,24%. Solo, dico, perché poi il problema di questo 0,24% è che sono quasi 100.000 persone. Perché è chiaro che fatte quasi 40 milioni le patenti, quasi 100.000 persone che hanno meno di 9 punti sulla patente oppure 0 è qualcosa che ci deve far riflettere. Chiudo, il coinvolgimento del privato è fondamentale sia per il punto di vista della sicurezza e della terzietà del conseguimento della patente sia per i tempi. Io mi sono visto per quello che riguarda le motorizzazioni in Italia. Ci sono tempi di attesa assolutamente poco europei, in alcuni casi con delle distonie fra provincia e provincia che non sono accettabili, al di là del fatto della carenza di personale perché negli ultimi 20 anni si è passati da più di 7.000 a poco più di 2.000. E quindi è chiaro che se riduci a un terzo il personale evidentemente non vai lontanissimo e la tecnologia non riesce a sostituire tutto. Però anche fra provincia e provincia leggevo gli ultimi dati a Isernia aspetti 50 giorni, a Comune aspetti 140. Questo per quello che riguarda l'esame pratico di guida. Peggio per quello che riguarda le revisioni dei mezzi pesanti. Poi c'è il collega Bignami che ha la delega alle motorizzazioni perché lì ci sono alcune province che ahimè drammativamente io quando ho visto i dati mi sono fatto un salto sulla seggiola e stiamo ragionando, ripeto, sia qua da 51 giorni sono invecchiato come se fossimo qui da due o tre anni perché ci sono alcune province dove quasi un mezzo pesante su due è revisionato, viene trovato fuori norma. Quindi qua noi possiamo occuparci di monopattini, di biciclette, di educazione stradale, ma quando poi per colpa della pubblica amministrazione che non è in grado di fare revisioni nei tempi certi c'è un parco circolante dell'autotrasporto ultraventennale che è circolante perché le motorizzazioni non riescono a stare dietro per carenze di personale alle revisioni e quindi hai il 20, il 30, il 40% dei mezzi controllati fuori norma vuol dire che su strada c'è qualcosa di cui preoccuparsi. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno partendo da questi dati non particolarmente positivi si può solo migliorare. Abbiamo ampio margine di miglioramento e ripeto se riusciremo fra i lavori d'aula, gli emendamenti, i decreti e il question time già settimana prossima perché sono abituato a procedere così e dentro oggi vedo se c'è la disponibilità dei colleghi degli altri due ministeri a fare al MIT un tavolo di aggiornamento, ammodernamento per mettere in sicurezza le strade italiane del codice della strada penso che faremo buona cosa e la riunione di questa mattina è protagonista nel suo di questa corsa per evitare dati come quelli che abbiamo sono dati impressionanti stiamo parlando di decine di migliaia di persone molte delle quali poi in condizioni invalidante per il resto della vita quindi penso che lo Stato abbia non il diritto ma il dovere di aggiornare questo codice che compie 30 anni quest'anno e quindi portato a casa il codice degli appalti che deve essere approvato da PNRR entro la prossima primavera dotare il paese anche di un moderno corrispondente alle esigenze reali codice della strada che preveda tutele ma anche sanzioni come dicevo per chi si mette alla guida di una bomba consapevolmente drogato o ubriaco penso che sia assolutamente utile e opportuno e conto di poterlo reso contare entro i prossimi dieci giorni e vi ringrazio per l'egreggio lavoro svolto grazie grazie ministro sì certo quello sarebbe una grande novità intanto insomma io mi sono preso gli appunti e mi sembra anche una gran notizia ovviamente perché è una di quelle cose che lavorando in un giornale appunto come lavoro quando cambia qualcosa nel codice della strada c'è un'attenzione ovviamente sempre molto alta non vi dico i dati dal punto di vista di internet i quanti click si fanno quando effettivamente si ipotizza questo perché è chiaro che è un cambio radicale della vita delle persone abbiamo letto dei numeri qui abbiamo la fortuna di avere con noi a leggerli insieme a noi a leggerli anche degli altri ovviamente Giancarlo Blangiardo che il professore è presidente dell'Istat e molto spesso è lui e il suo istituto che accende il riflettore proprio perché certi numeri ci arrivano addosso con la forza di farci uscire dal tema della normalità dell'orrore in questo senso i numeri come avevo detto anche nell'introduzione però vanno letti vanno letti bene perché magari appunto saper leggere un bicchiere mezzo pieno e i segnali eventualmente anche positivi che possono esserci professore prego Bene, grazie buongiorno a tutti e grazie per l'invito Sì, lo scopo della statistica è quello di documentare in maniera oggettiva i fenomeni e naturalmente un fenomeno come questo è estremamente importante quindi avere con certezza